Musica Venerdì 7 luglio, San Claudio. È il 188esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 177 alla fine. Il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 21.01. La luna, leva alle 19.33, tramonta alle 4.12. Nel corso di una crociata l'esercito cristiano, dopo 5 mesi di assedio, espugna la città di Tiro. Il doge Domenico Michiel, alla testa delle truppe veneziane, ottiene il possesso di un terzo della città, alla quale vengono dati un governatore veneziano, leggi veneziane e una magnifica chiesa dedicata a San Marco. È l'inizio dell'impero oltremare veneziano, durato 7 secoli fino alla caduta della Repubblica. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sui monti nel pomeriggio, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Precipitazioni, in pianura e sulle prealpi assenti, sulle Dolomiti probabilità bassa per locali piovaschi, rovesci o temporali nel pomeriggio. Temperature in aumento leggero o moderato. Sui monti stazionarie, eccetto lieve aumento dei valori diurni nelle valli. Grazie. 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 Grazie.